ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video si l'avevamo già provata quindi non è proprio un nuovo video diciamo che è un aggiornamento perché la bellissima e ottima fossi bot f 2004 oggi la riproviamo leggermente cambiata da quella che avevamo provato in un video molto dettagliato questo ve lo lascio anche nelle schede vi lascio anche il link nella descrizione del video mi raccomando leggete sempre le descrizioni perché poi non trovate le cose e le avete la sotto questa me l'ha mandata direttamente fossi bot quindi non passiamo da un sito di vendita ma direttamente dal produttore che vende anche sul suo sito direttamente in descrizione troverete sempre un codice sconto perché ve lo dico subito riuscite a portarvela a casa con quel coupon a 749 euro parliamo sempre di una power station con 2400 watt di potenza continua in uscita 2 kilowatt ora di batteria live po 4 è un ingresso fotovoltaico da 500 watt fino a 60 volte poi chiaramente abbiamo il solito manettino fossi bot che abbiamo visto in altre pure station dove magari ce l'hanno a filo come pulsante d'accensione diventa più funzionale qui ce l'abbiamo esterno bisogna fare attenzione a non battergli contro però averlo e tanta roba allora cosa cambia dall'altra versione intanto il colore perché mi sembra che l'avevamo provata nera così le vedete nei due colori e poi questa macchina che è esattamente la stessa è stata aggiornata perché ora si può gestire via applicazione con bluetooth ma anche con wifi questo vuol dire che la macchina alla power station rimane connessa al wifi di casa vostra del posto dove la mettete a 2,4 g e voi la potete comandare da qualsiasi parte del mondo perché il vostro telefono fa accesso all'applicazione tramite la rete dati e tramite il cloud vi collegate alla power station per gestirla attivarla disattivarla comandare le uscite vedere se scarica se carica insomma vedrete che si possono fare un po di cose ve lo anticipo già non è un'app super innovativa con chissà quali funzioni come magari ci stiamo abituando però ha lo stretto necessario che serve insomma io non perderei più tempo però prima di andare avanti col video mi raccomando iscrivetevi al canale così partiamo con questo 2025 a bombazza vediamo di farlo crescere a voi non costa nulla basta fare clic a me dareste un grosso supporto andiamo avanti col video la rispacchettiamo lo stesso vediamo se è cambiato qualcosa ma vi dico già di no allora solita scatola non dovrebbe essere cambiato nulla ma controlliamo l'unica cosa che vi posso dire che come sigla c'è scritto a 266 yk f 2004 e u grig che sarebbe green il colore qui c'è un altro codice il modello la capacità la potenza il voltaggio il peso le misure tutto tranne il fatto che sia la versione aggiornata bluetooth scatola nella scatola ed ecco la nostra solita fossi bot f 2004 non cambia assolutamente nulla abbiamo uscita xt 60 12 volt 25 ampere uscita accendi sigari 12 volt 10 ampere 12 volt circolare comando dc luce tutte le usb quindi quick charge type a power delivery da 20 watt type c povera delivery da 20 watt type c e power delivery type c ma da 100 watt solito manettino per la selezione solito sistema delle ventole da aprire e le tre prese asciugo in uscita altro passaggio d'aria da questa parte è ingresso diretto 220 nonché ingresso per l'MPPT con xt 90 da 11.5 a 50 volta al massimo produce 500 watt caratteristiche f 2004 l'abbiamo già visto batteria 51.2 volte da 2048 watt ore carica fino a 1100 watt da rete ac display 4.9 pollice extra large uscita 2400 watt qui c'è il seriale parte sopra con il cavo mc4 xt 90 il cavo accendi sigari xt 90 è l'ingresso diretto a 220 prima accensione è arrivata al 27 per cento proviamo subito una ricarica diretta a 230 volt parte in super charge salendo piano piano con la potenza fino a 1100 watt perché adesso il manettino era al massimo a 1100 se abbassiamo a 900 si stabilizza ma questa funzione l'avevamo già analizzata ed è una delle caratteristiche peculiari di queste povere station fossibot rimettiamola a 1100 stacchiamo ora l'ingresso a c e gli diamo un 48 volt sul ingresso fotovoltaico sentite che prende il comando riusciamo in questo modo a simulare un ingresso di pannelli ricordo che in questo momento abbiamo una tensione di 48 volt e lei al massimo comunque tira sui 510 500 watt proviamo a vedere se sommiamo ingresso fotovoltaico più rete allora in questo caso somma i 1100 della rete più il massimo 500 che arrivano dal pannello dovrebbe arrivare sui 1600 vedete che arriva a 1560 ogni tanto fa un piccolo saliscendi ma comunque si stabilizza al massimo a circa 1600 1550 watt di ricarica ho attaccato intanto il solito radiatore svedese perché volevo verificare un attimo il funzionamento della modalità ups ossia con un carico di 775 watt impostando ad esempio 300 watt di ingresso a c verificare se fa il bypass quindi se adesso va a prelevare 775 watt più i 300 impostati ed è esattamente così perché fa il bypass da rete quindi prende quello che sta dando in uscita più quello che abbiamo impostato di ricarica quindi se la usate ad esempio in camper in piazzola dove avete poca corrente per caricarla con quella poca corrente che vi danno non potete in contemporanea attaccare il carico in uscita perché sennò va a tirare di più sull'ingresso e vi fa scattare la protezione se io stacco l'uscita il prelievo torna a essere quello impostato dalla manopolina ok ora facciamo un po di prove che magari l'altra volta ho trascurato come la verifica dell'uscita sinusoidale pura con la strumentazione ma anche con il vero test sul campo che è poi quello che ce la racconta tutta veramente in presenza di rete in ingresso c'è l'uscita monofase e un'onda sinusoidale perfetta se togliamo l'ingresso vedete che l'onda non è assolutamente pura come abbiamo visto magari in altri prodotti adesso poi faremo anche il test reale alimentando questa porzione di casa dove c'è il neon che fa i capricci allora solita prova per alimentare tutta la casa in questo momento sta tirando 300 watt luci con tubo led della cantina nessun problema il quadro è tutto alimentato anche il dispositivo per la gestione funziona correttamente le luci dello studio funzionano bene questi altri tubi a led ok nessun problema sull'elettronica i computer i dispositivi domotici eccetera eccetera la luce che di solito fa girare le scatole appena accesa ronzato un pochino ma poi è diventata molto molto stabile non ha dato segni strani a prova del fatto che la prova con l'oscilloscopio va bene la facciamo ma poi anche se qui c'era un'onda sinusoidale che non era per niente bella invece funziona tutto molto bene molto meglio di altre power station che abbiamo provato quindi da questo punto di vista ok pienamente utilizzabile anche in ambiente domestico ok mentre sto testando le uscite di cia c in contemporanea sembra tutto ok ora veniamo al discorso applicazione che è l'unica vera differenza rispetto alle versioni precedenti l'app che va scaricata per gestire le macchine fossibot come avevamo già visto per la f36 si chiama bright e ms la scarichiamo terminato download l'apriamo bisogna creare un account oppure loggarsi con google o con apple una volta aperta dovete creare un account altrimenti non funziona non vi fa riconoscimento dei dispositivi da aggiungere facciamo add device parte una ricerca con il bluetooth e vedete che viene trovata la f2004 la selezioniamo gli diamo un nome prende il comando quindi indica che connessa e si accende il simbolo del bluetooth sta facendo l'accoppiamento e vedete che chiede l'accesso al wifi quindi gestibile anche a distanza identifichiamo la nostra rete a 2,4 gigahertz mettiamo la password va in configurazione network configurato correttamente vedete che connessa anche in wifi adesso cosa vediamo se entriamo dentro sostanzialmente quello che avevamo visto con la f36 quindi una visualizzazione schematica molto molto semplice dove segna in ingresso che cosa sta entrando in questo caso c'è solo un ingresso ac poi c'è un ac out che segna i watt e anche un dc out dice che l'usb sono attive le ac attive possiamo attivare anche l'uscita del 12 volt e ci ricorda graficamente tutte le porte che vengono abilitate possiamo chiaramente gestire anche la luce che non abbiamo visto null'altro dalla schermata principale se tappiamo sulla batteria non c'è nulla se tappiamo su ac è tutto non tappabile a parte gli slide qua per attivare le uscite se andiamo in impostazioni invece possiamo intanto cambiare l'icona poi cambiare il nome dare dei permessi abilitare o meno il suono dei tasti possiamo abilitare lo spegnimento da remoto o meno ma ci ricorda che non è possibile se il dispositivo è in carica l'energy management ci arriviamo dopo il charging setting semplicemente andiamo a scegliere se fare una ricarica silenziosa se programmare delle ricariche e possiamo anche impostare la corrente massima su un ingresso in dc questa è una cosa molto interessante abbiamo il tempo di spegnimento dello schermo il tempo di spegnimento della macchina diviso per ac dc usb o se la macchina è inutilizzata configurazione del network possibilità di fare l'aggiornamento firmware non abbiamo aggiornamenti abbiamo anche uno storico degli errori dei log andiamo sull'energy management perché possiamo impostare il soc minimo di percentuale sotto il quale non continuerà a prelevare dalla batteria poi possiamo anche impostare un limite massimo un soc di percentuale massima oltre il quale non caricherà da rete ma da pannelli continuerà sempre e comunque a caricare fino al cento per cento non abbiamo delle funzionalità avanzate come il prelievo da rete a raggiungimento di una certa percentuale purtroppo questo tipo di funzionalità manca bene siamo a fine video come detto era solo un aggiornamento per farvi vedere questa novità della connessione la macchina è la stessa stesse caratteristiche stessi pregi stessi difetti come le orecchie che non amo particolarmente ma tant'è nell'app purtroppo ho trovato una mancanza perché nella schermata delle impostazioni di ricarica non c'è il controllo dentro l'app della potenza ok quindi questa che andiamo a variare col manettino attualmente non c'è nell'applicazione secondo me manca un pezzo l'ho già segnalato magari che i prossimi aggiornamenti sarà implementato perché potrebbe essere interessante però potete gestire tutto quello che vi serve ho provato il soc che ho provato a farla caricare da rete fino al 90 per cento in effetti si è fermata adesso è all 87 perché intanto abbiamo fatto due o tre prove qua ed è scesa quindi tutto quello che deve fare lo fa molto bene l'opzione che abbiamo provato prima ossia quella dello spegnimento da remoto vi faccio vedere che la possiamo fare tranquillamente remote shutdown mi chiede la conferma gli dico ok cosa succede succede che la power station si spegne chiaramente possiamo spegnerla da remoto ma non possiamo ri accenderla e purtroppo con i pannelli collegati o con la rete collegata non la fa spegnere quindi questa funzione può servire per togliere corrente si poi per ridarla purtroppo non c'è un modo ma questo con tutte le power station perché chiaramente essendo spenta non è connessa devo fare poi dei test perché secondo me con lo switch bot quel meccanismo robotizzato che si monta col biadesivo magari montandolo qui avendo lab per comandarlo da remoto e tutto insomma costruendosi un piccolo ecosistema secondo me potrebbe anche essere che si riescono ad accendere le power station magari questa prova poi la facciamo e si funziona ce la fa sia accendere che a spegnere come vi ho già detto inizio video usate il link in descrizione col coupon la portate a casa 749 euro che è un ottimo prezzo soprattutto ora che è gestibile tramite applicazione anche se un po spartana manca qualcosina però intanto l'hanno aggiunta quindi un plauso a fossi bot noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta di giovedì sera se passate al negozio da torino un super caffè grazie a tutti ciao da massidattoli